bentornati sul canale l'armageddon qui abbiamo il signor illustre daniele di pietro terzo posto OTS championship venda vinto Gianluca come al solito e portato Sword Soul, lista di Gabriele Scotti e vediamola basta, terzo posto x1 nel frattempo qui abbiamo due premi sbustati da due OTS non mi è spiegata questa è la poterire, vabbè comunque tre eclesia standard, moglie tre standard, due Taya, mai uno perché pot è rischioso, tre, tre e uno, questa è la parte Sword Soul, poi Teni, tre Ashuna, tre Vishuddha, tre Adara, Mono Adara, tre circoli fortissima anche per le HT che si giocano due vessel, ci sta, mi sono fidato gli sgotti quindi se no avrei giocato solo tre circoli però andata bene così poi riporto HT, tre Ash, due Ogre e non Veiler, perché questa è scelta? eh, li vediamo più forti anche visto che c'erano tanti Flandersi oggi quindi era meglio questo anche se Veiler è forte pure però meglio questo, tre Droll fortissimo, due Imp e tre Droplet poi le ultime due, Scotti non ha voluto giocare Callad quindi ha giocato solo due bot, 45 precise che giocatore, che giocatore, poi altri token, Crocetti style, LOL, poi Extra, tre Monk e uno Sciamano, parte Link questa, poi Yadzi, tre Baxia perché giocavamo design anche Mina, fortissimo, due Cixiao, il Mono di questo, Mono di questo, Mono di questo, più forte dell'Extra e lei, questo era l'Extra, poi Side, la Side per andare prima era 3 Dispelle e 2 River a seconda del matchup, Dispelle e carta più forte del mazzo, Goin Second, tre Evely, tre Storm, un Duster, preset, vabbè, tutto quanto, e poi 3.000, bello, molto, molto, molto solido, niente, ho chiuso X1, ho perso la Mario che giocava ai Piccioni perché solo da Piccioni posso perdere, io ci vinco, però ho vinto la Toria, e niente, ringrazio tutti i sponsor, Xtima de Card, War Cards, Plaglord, Chapa, e Chapa, che ci fai? Plaglord, ultimo sponsor guadagnato nell'ultimo torneo, giusto? Grazie al buon Diego, vabbè, ci vediamo all'Europeo, grazie mille a tutti, ciao!